Ciao, sono Carlo, sono un insegnante di basso elettrico di Cuneo in questo video ti volevo far vedere il mio ultimo metodo ebook che ho scritto, Timing per Bassisti 3 altri tempi in cui andiamo ad affrontare i tempi in 3 quarti, 7 quarti, 6 ottavi, 9 quarti ci sono 5 riff diversi allora andiamo a vederlo, innanzitutto è il numero 3 perché chiaramente ce ne sono altri 2 in questo metodo qua la cosa migliore secondo me è quella che tutte le parti di batteria sono state registrate da un bravissimo batterista a cui va il mio ringraziamento che è Elia Dutto giovanissimo ma fenomenale quindi tutti gli audio che ti troverai, mi sembra 155 file audio anche scaricabili sono tutti suonati con una batteria vera e super bella qua all'inizio viene spiegato come funziona c'è un indice richiamabile quindi a click puoi andarti a prendere quello che stavi, il riff che stavi facendo e poi si parte ci sono quindi 5 diversi timing il primo è sul 6 ottavi su un rock time definito di questo, su questi accordi sono state fatte 5 variazioni quindi ho scritto 5 diverse linee di basso e vengono suonate con appunto 5 batterie differenti ma ci sono anche gli altri strumenti qua a destra ne apri la pagina imparo a suonare ogni groove quindi parto con questo e ho due giri in cui mi suona solo basso batteria per capire e studiare il groove andiamo a provare a sentirlo benissimo poi di qua invece c'è una versione con basso e senza basso in cui va a suonare per diversi minuti il pezzo con tutti gli strumenti te ne faccio sentire un pezzettino la particolarità di questo metodo è proprio il fatto che vengono suonati due giri poi per due giri ci sono succedono in base a dove sei delle cose o non c'è nessun riferimento ritmico quindi silenzio totale tu devi continuare a fare groove e poi rientrare a tempo oppure ci sono come in questo esempio c'è una melodia di chitarra sotto che nei due giri ci tiene il tempo ci aiuta a tenere il tempo oppure come vedremo nei cinque livelli che ci sono dopo abbiamo dei riferimenti ritmici che sono scritti sotto chiaramente ogni livello vanno a essere sempre più difficili questi riferimenti ritmici cioè è difficile suonarci sopra vedrai è un metodo molto graduale che ti porta, ti accompagna fino a farlo a livello cinque che è... scusami, fino a farlo dopo i cinque livelli a quello finale dove nei due giri vuoti non c'è assolutamente nulla e qua caschiamo un pochettino tutti perché bisogna veramente essere precisi per rientrare dopo otto battute suonate solo basso a tempo con tutto il resto adesso faccio una carrellata un po' veloce per farti vedere poi magari faremo degli altri video un po' più dettagliati quindi qua funziona sempre così vado a farti vedere ancora alla fine c'è una cosa carina che è il fatto che ti puoi stampare comunque tutte le parti sia in tablatura che in partitura chiaramente e poi novità anche questa di questo ultimo grazie a un suggerimento che mi è stato fatto di scaricare gli audio tutti i 155 basi audio per poterle con delle proposte di studio che metto qua sotto caricandole su una DAW ad esempio su Logic o qualcos'altro per poter o accelerare e rallentare oppure soprattutto per registrarti eccomi chiedo scusa era finita la batteria della videocamera quindi ti dicevo per poterti registrare questa cosa qua è importantissima tu puoi registrarti dopo vai a riascoltare vedendo i punti in cui hai accelerato o rallentato non sei stato abbastanza preciso sul tempo quindi potenzialmente è veramente molto molto utile questo metodo alla fine vengono fatti i ringraziamenti chiaramente soprattutto a Eliadutto il batterista che mi ha registrato tutti gli audio e al mixaggio delle batterie di Diego Pellissero qua trovi poi anche le informazioni per gli altri miei due metodi che chiaramente anche qua sono graduali questo qua è sui altri tempi quindi tempi composti o tempi semplici ma non quattro quarti invece timing per bassisti uno è più sul crearsi una base di lettura ritmica con anche qua degli esercizi molto comodi e utili poi il secondo invece è più improntato su dei groove in stile di alcune alcune band andando avanti poi puoi trovare anche gli altri miei metodi sullo slap sul blues anche interattivi e sul double thumb ok? dove trovi questo questo metodo? sul mio sito www.carlochirio.com vai a cercare ebook timing per bassisti 3 e qua ti apparirà questo inserendo il codice timing potrai pagarlo 10 euro più IVA quindi devi andare a cliccare qua e ti farà l'acquisto dove ti manderà il link diretto al al sito dove dove potrai usufruirne online poi puoi comunque da dentro il metodo scaricarti i pdf se preferisci avere pdf e tutti e tutti gli audio se no puoi tranquillamente utilizzarlo online su qualunque su qualunque browser quindi tu lo apri è compatibile con tutto fai partire le basi e suoni e fondamentalmente puoi studiare perché ho messo tanti basi perché secondo me bisogna veramente per progredire avere gli strumenti per poterlo fare quindi trovavo che è abbastanza non inutile però è abbastanza limitante avere soltanto un audio magari anche malfatto di un groove da studiare io devo avere questo groove portato nel tempo in modo da studiarlo per più minuti infatti tutte le mie basi durano quasi tutte durano comunque diversi minuti e sono ripetitive perché solo con la ripetizione noi riusciamo a interiorizzare e imparare se dobbiamo cliccare stop far ripartire tutte le volte perdiamo questo questo senso di ripetizione ed è per questo che tutte le basi infatti si ripetono per molti giri bene questo a livello diciamo un pochettino più più generale poi puoi trovare comunque tutte le informazioni sul sul sito puoi anche vedere il demo dove ti puoi cimentare su alcuni groove se ti interessa qualcosa fammelo sapere qua sotto nei commenti poi magari vedremo di fare degli altri video magari più più specifici sulle cose da vedere per adesso ti ringrazio del tempo che mi hai concesso e ci vediamo al prossimo video ciao ciao